Amici e cari bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovissimo video, in questa nuova puntata come al solito a tema Gekyll e Bartini in cui impariamo nel dettaglio come si tengono, come si gestiscono e come si allevano o comunque vi racconto un pochino quello che faccio io. Oggi è tempo di parlare di alimentazione che è un argomento un po' spinoso, un po' antipatico per certi aspetti ma sicuramente importantissimo. Oggi nel dettaglio cerchiamo di rispondere a tutti quei quesiti classici che chi si sta approcciando al mondo del Gekyll e Bartini si pone, ossia cosa mangia, quanto mangia, dove mangia, cosa bisogna supplementare, quanto bisogna supplementare, bla bla bla. Prima però di avventrarci nel mondo dell'insettume da pasto ringraziamo il nostro sponsor Italian Cricket Farm che ci ha mandato un pacchettone di insetti che dobbiamo aprire insieme. Ho fatto un guai, ho lanciato tutto per l'aria. Per chi avesse vissuto su Marti fino ad oggi Italian Cricket Farm è l'allevamento di insetti da pasto più grande d'Italia, ci ha mandato un mega pacchettone e dimostra quanto è grande. Quali sul sito grilli, tarme, locuste, insetti di tutte le forme e dimensioni, in questo video capiamo anche quelli che sono i migliori per gliopardini. Qui io ho comprato un pochino di robetta che serve per i miei Leo e tra qualche video vediamo anche il modo preciso di gestire e conservare gli insetti da pasto per non doverli comprare ogni volta. Serve certamente una laurea in ingegneria aerospaziale per capire che i leopardini mangiano insettini. Vediamo un pochino, cosa c'è in questo megavacco? Arrivato come al solito in due giorni, ho fatto l'ordine martedì, oggi è verde, quindi giovedì verde di viaggio. Ho preso, qui ci sono mille acchietta domestica adulti, qua ci dovrebbero essere 500 acchietta, ah no, qua non è vero, 500 adulti, la mille medi. Qua poi abbiamo un, prima che l'avevo in giotto per l'aria, qui abbiamo un mega sacchettone con un chilo di tarme e la farina, due scatolette di caimani e non per importanza, per ultimo, abbiamo cibo per grilli. Tra l'altro, ragazzi, vi vorrei far presente che TNC Cat Farm, oltre ad avere degli insetti di ottima qualità, ha anche dei prezzi bassissimi, probabilmente i più bassi che si trovano sul mercato in Italia. E inoltre, con il codice falegno, risparmiate anche il 10% ulteriore rispetto a già quanto non vi facciano sparagliare loro. Tornando un attimino seri alla domanda semplice, cosa mangia il gecchio di guardini, si risponde altrettanto semplicemente con insetti da pasto. E qui adesso vi faccio uscire un bel elenco degli insetti che potete dare al vostro gecchino. Anche la domestica, ossia grilli, tarme e la farina o anche tenebrio molitor. Poi ci sono i caimani, che sono quelli che ho preso anche io questa volta. Abbiamo i bacchi da seta, abbiamo le locuste gregaria o migratoria, abbiamo blatte dubbia o le blatte lateralis. Abbiamo poi i licenzer mezzia, che sono dei vermettini, che sono nient'altro delle larve, delle mosche, non mi ricordo come si chiamano. E sostanzialmente basta. Non ricordo se ci sono altri insetti in commercio che si possono dare ai gecchialopardini, ma se non mi vengono alla mente, probabilmente perché io non li ho mai utilizzati e probabilmente perché non verrebbero utilizzati da nessuno. Avevo dimenticato le camole del miele, ma in realtà è una dimenticanza che non pesa poi chissà quanto. Ora vi spiego il motivo. Gli insetti che vi ho citato poco, anzi, vanno divisi in categorie. Abbiamo quelli che possiamo utilizzare come fonte principale dell'alimentazione, quelli che possiamo utilizzare come, tra virgolette, fonte secondaria, e quelli che possiamo utilizzare come semplice aggiunta per andare a variare un po' la dieta e per andare, come dire, a integrare con qualche alimento diverso. Quello che io vi consiglierei di prendere come alimento principale per i vostri gecchialopardini sono le talme della farina e i grilli. Poi tutto il resto è secondario. Diciamo che le talme della farina e i grilli sono gli insetti da pasto che, da un punto di vista di nutrienti, hanno un equilibrio maggiore. I grilli sono leggermente più proteici delle talme, che invece sono un pochino più grasse. Però in generale sono quelli che riescono ad apportare un valore nutrizionale migliore al nostro gecchino. Metto come cibo principale anche perché sono tra quelli che costano di meno. Non che sia un problema dove spendere chiaramente i soldi per i nostri animaletti, però volendo fare un attimino un bilancio fra quelli che sono i pregi e quelli che sono i difetti di vari insetti, in cui rientrano anche il prezzo, talme della farina e i grilli sono quelli che secondo me vincono. I bagli da seta sono in realtà ricchi di calcio, fosforo e tutti gli elementi che fanno bene ai nostri gecchini, però costano l'ira di Dio, quindi portare avanti un'alimentazione basata sui bagli da seta è secondo me impossibile, motivo per cui finisco nella categoria secondaria. Le blatte laterali, se le blatte dubbia, sono entrambi ottimi e come valori nutrizionali sono vicini ai grilli, o possiamo dire che sono equivalenti ai grilli, tuttavia però i grilli costano decisamente molto meno e non sono infestanti, cosa che invece le blatte laterali sono, quindi se vi scappano per casa sono macelli. Quando invece riguarda le blatte dubbia, non sono infestanti, però sono grosse, almeno da adulte sono gli scarafaggi così grossi che un geco leopardino potrebbe faticare a mangiare, a meno che non sia il freddo, comunque un animale molto grosso, difficilmente riuscirà a mangiarsi in una dubbia adulta. Costano anche un bel po', quindi secondo me rispetto ai grilli sono un passo sotto. Poi le locuste sono anche queste abbastanza grandicelle, però sono più longiline, quindi riescono ad essere mangiate con più facilità dai nostri gecchini, però hanno un quantitativo di calorie e di proteine un pochino troppo alto in relazione al resto dei nutrienti, quindi vanno date, ma non con la frequenza con cui possiamo dare i grilli, motivo per cui anche le locuste si trovano nel limbo della parte di mezzo. Quindi ricapitolando, nell'olimbo degli insetti da pasto, la prima scelta secondo me devono essere tagliare la farina e grilli, poi possiamo utilizzare una volta ogni tanto, giusto per far valere la dieta e per evitare che ci infestino casa, le blatte, quindi dubbia o lateralis, quelle che volete voi, o le locuste e i baghi da seda, anche perché altrimenti ci prendete un patrimonio con questi insetti. Nell'ultimo ripiano, ossia quegli insetti che si possono dare una volta ogni tanto, il classico dolcetto che possiamo dare orientativamente una volta al mese perché sono molto calorici e se vengono utilizzati eccessivamente fanno molto molto male, sono i caimani e ancor peggio le camole del miele. Insetti molto molto grassi e si sa che troppi grassi fanno male anche ai leopardini, per quanto siano degli animaletti che hanno sviluppato una coda cicciotta per immagazzinare dei grassi riserve di nutrienti, troppi grassi fanno male anche a loro, possono generare malattie cardiovascolari e bla bla bla, quindi vanno date veramente con parsimonia. Io li utilizzo una volta ogni tanto, li ho comprati adesso, non li compravo da mesi, giusto per dare qualche boost di energie, boost calorico ai gechini che si stanno preparando per la bruma e per farli assaggiare una volta nella vita anche ai baby perché questa non li hanno mai mangiati. Queste erano le tipologie di insetti che possono mangiare i leopardini, però se fate un giro sul sito di Italian Cricket Farm vi renderete conto che per ogni insetto ci sono delle taglie da poter scegliere. Prendiamo ad esempio i grilli, ci sono i micro, ci sono gli small, ci sono i medi, ci sono gli adulti. E' chiaro che non vanno utilizzate indistintamente tutte e quattro le tipologie di taglia per ad esempio un gecko adulto, un gecko adulto mangerà degli insetti adulti, un gecko bevi mangerà degli insettini piccoli. Quindi qui bisogna rifarsi alla classica regola della distanza tra gli occhi degli animali. La preda che gli daremo in pasto, quindi ad esempio il grilletto, non deve essere più largo di quant'è la distanza tra gli occhi dell'animale. Quindi per un geckino adulto, che adesso vi faccio vedere subito, per un adulto come può essere ad esempio Muna, che come vedete ha una certa distanza tra gli occhi, importante, possiamo utilizzare anche ad esempio dei grilli adulti, riuscire a mangiarli con estrema facilità. Questo perché la distanza tra gli occhi degli animali è in un certo senso indicativa anche della larghezza dell'esofago. Se gli andiamo a buttare dentro un grillo così e hanno un esofago così, non ci entra. Capite quindi che questa regola la possiamo trasporre anche agli altri insetti. Quindi ad esempio le blatte dubbia, che sono così larghe, non vanno proprio bene per tutti. Per Alfredo, che ha una testa così grande e quindi avrà anche un esofago così grosso, una blatta dubbia subadulta, quasi adulta, se la può mangiare lo stesso. Mentre ad esempio Muna, che è adulta, una blatta dubbia adulta comunque faticherebbe a mangiarsela. Quindi mi raccomando, attenzione al gecchini in questione. Per quanto invece riguarda le locuste, il discorso è un po' diverso, perché anche se sono grandi, sono sottili. Cioè sono lunghe, ma sono sottili, quindi se le riescono a mangiare con maggior facilità. Per dei gecchini che invece sono più giovani, piccolini, come può essere ad esempio il bellissimo Fenix, questo bellino piccolino, che tra l'altro una ragazza ha anche già preso e lo dovrò mandare a Milano a gennaio. Dicevo, per gecchini più piccolini, come può essere Fenix, un grillo adulto è eccessivamente grosso, quindi dovremmo prendere i grilletti che sono medi. Riguardo le blatte lateralis, anche ad adulte non sono grandissime, quindi se non vi spaventa l'idea di avercela in giro per casa, vanno bene tanto quanto i grilli, come i nutrizionali potete prendere anche quelli, e li prendete adulti o le prendete medie, riescono a mangiarseli sempre. Un aspetto molto importante che volevo sottolineare, è che i leopardini mangiano esclusivamente insetti vivi, proprio perché sono attratti dal loro movimento, un po' anche dall'odore, devo dire la verità, ma soprattutto dal fatto che si muovano. Dico questo perché, se uscitele in Cricket Farm, potrete trovare anche questi pack con degli insetti essiccati. Io li ho provati, ma in realtà non è che funzionino troppo con i leopardini. Dopotutto è anche riportato sulle confezioni, che non sono indicati per i leopardini, però ho voluto comunque fare una prova, e devo dire la verità, appena aperti emanano un odore abbastanza forte, che è coinvolgente a quanto pare per i leopardini, e li mangiano, però subito appena aperti, proprio perché hanno questo odore molto molto intenso. Dopo qualche tempo però che avete aperto la busta, anche se chiaramente poi l'andate a resigillare, questo odore si perde, e risultano soltanto degli insettini essiccati, e quando li proponete i gechi, non vengono neanche più attratti dall'odore, e quindi difficilmente li mangiano. Motivo per cui io a questo punto vi sconsiglio di buttarvi su questo tipo di insetti, non ve li ho mai consigliati a dire la verità, insetti essiccati, ho fatto una prova, e confermo il fatto che non sono troppo indicati per i leopardini. Una cosa che però potrete utilizzare eventualmente come supplemento, e qui lo dico e qui lo confermo, come supplemento, quindi tipo una volta al mese giusto per, è questa che è la farina di grilli, che tra l'esempio si utilizza anche Cat Farm, che non è sostitutiva degli insetti vivi, però insomma tra questo e questo, questo funziona decisamente meglio. Ho fatto un video in cui ne parlo un pochino più approfonditamente, dove la provo, ve lo lascio linkato qui in alto a destra, e fatemi sapere con un commento se volete anche un nuovo video, in cui vi faccio vedere come funziona. Beh ragazzi, riguardando un pochino dei clip e montando il video, mi sono reso conto che ho parlato un pochino troppo, quindi per il momento ci fermiamo qui. Io vi invito comunque a iscrivervi al canale, perché prossimamente continueremo il discorso dell'alimentazione, e ci soffermeremo sulla frequenza dei pasti, su quanti insettini dar da mangiare a ogni impasto, supplementi e così via. Ci sono ancora diverse cose interessanti da dire, quindi mi raccomando, iscrivetevi perché ne parleremo prossimamente. Detto questo ragazzi, il video si conclude qui, grazie a tutti per avermi seguito ancora una volta, vi do un saluto, ci vediamo al prossimo video sempre qui, sul mio canale YouTube. Ciao! Ah, me l'ho dimenticato un'altra volta, ho ancora qualche giochino disponibile, se qualcuno di voi fosse interessato, faccio gli sconti di Natale. Ciao!